Noi coltiviamo piante alpine, mediterranee e aromatiche e ne tagliamo le ponte e commercializziamo queste. Il nostro lavoro consiste nel cercare, ricercare le piante, coltivarle in un sistema sostenibile, archeologico e biologico e tagliare solo le cime di queste piante a mano e confezionarle e dopo spedirle per l'alta gastronomia. La prima cosa è la scelta della pianta stessa, abbiamo oltre 180 varietà di erbe aromatiche e 40 fiori eduli, in più abbiamo la manualità del lavoro che abbiamo, il taglio, la selezione del prodotto che facciamo tutto a mano, pianta per pianta, per cui se arriva un prodotto in casa che è zero scarto. Il nostro territorio, l'attuale dove coltiviamo queste piante, è adatto per le sue escursioni termiche, per fare un prodotto di alta qualità. La qualità è quella che il cliente ci richiede, che l'alta gastronomia deve dare al loro cliente e noi dobbiamo fornire al nostro cliente che è la gastronomia. L'importante è avere una continuità sul prodotto, un'alta qualità sia in termini di aroma, di gusto e però anche di estetica. Ma noi adesso stiamo vedendo la moda dell'acetosella rossa, noi consigliamo l'acetosa, che è quella verde, che ha le proprietà simili, però ha molta molto più forte come acidulità e in più si presta molto molto bene col pescicolo. Grazie a tutti!